Relatore di SEL, prego. Favorevole. Grazie. Relatore Invernizzi. Favorevole. Relatore La Russa. Favorevole, prendiamo atto. Dunque, quindi 1.1 e 1.100, Gelmini, Bianconi, Toninelli. Mi rimetto all'Aula. 40. Mi rimetto all'Aula. Invernizzi. Favorevole. La Russa. Favorevole. 1.2 centemero, Toninelli. Mi rimetto all'Aula. 40. Mi rimetto all'Aula. Invernizzi. Mi rimetto all'Aula. La Russa. Favorevole. 1.11, 40. Toninelli. Favorevole. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La Russa. Favorevole. 1.3 centemero, Toninelli. Mi rimetto all'Aula. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La Russa. Favorevole. 1.6 centemero, Gelmini. Toninelli. Mi rimetto all'Aula. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La Russa. Favorevole. 1.4 centemero, 1.12 centemero, Toninelli. Mi rimetto all'Aula. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. Favorevole. La Russa. Favorevole. 1.50 da Adone. 1.54 da Adone. Toninelli. Favorevole. 40. Favorevole. Invernizzi. Mi rimetto all'Aula. La Russa. Mi rimetto all'Aula. 1.104, Cecconi, Toninelli. Favorevole. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La Russa. Mi rimetto all'Aula. 1.55.